dunque i concetti chiave del diritto dei marchi sono questi tre che abbiamo che abbiamo elencato ovvero le norme qui scrivo appunto che le norme sui marchi menzionate sono effettivamente scritte in modo molto ridondante cioè le troviamo le troviamo spesso io in realtà l'avevo modificata però non va bene saltata peccato avevo aggiunto una cosa qua sotto ma posso dire a voce allora sono molto ridondanti cioè non sono scritte bene come la legge sul diritto d'autore e non è un caso la legge sul diritto d'autore è dagli anni 40 ed è scritta meglio di questa legge che è del 2005 però vedremo che spesso torna in tutte le norme sul diritto dei marchi che sono quelle che abbiamo visto nell'articolo 7 e seguenti del codice della proprietà industriale gli ingredienti che continuano a tornare sono questi capacità distintiva versus descrittività cioè la descrittività è un po' l'opposto è l'altro rovescio della medaglia dell'essere distintivo quando si dice che un marchio è troppo descrittivo vuol dire che non fa altro che descrivere il prodotto descrivere il produttore l'azienda che produce quindi non dà davvero distinzione cioè se io faccio che ne so sostegni per computer oppure schermi per computer che marchio è? schermipercomputer.it quello è un nome a dominio quindi funziona in modo diverso ma il marchio in sé cioè è troppo poco distintivo perché tutti quelli che fanno schermipercomputer direbbero ma insomma ma allora io adesso non posso più usare le parole schermipercomputer perché è arrivato uno che ha registrato il marchio in cui semplicemente descrive quello che lui fa ok invece scritto in un altro modo scritto con una grafica particolare allora comincia ad assumere maggiore capacità distintiva e quindi diventa distintivo il rischio di confusione è quello che si vuole evitare cioè l'abbiamo già letto nella definizione di marchio tutto ciò che crea rischio di confusione vuol dire che ha una bassa capacità distintiva e quindi come vedremo spesso nel commentare alle norme è che appunto questo rischio deve essere ciò che la norma cerca di evitare quindi in tutti i comportamenti che vengono stigmatizzati dalla norma perché vengono considerati inviolazione del marchio cioè proprio il fatto che si crei confusione con altri segni e poi un altro elemento ecco questo è il pezzo che devo aggiungere non solo rinomanza ma anche la forza cioè un marchio si dice che è forte o rinomato proprio perché è un marchio che ha riuscito a negli anni in virtù dell'attività di promozione di marketing ma anche per la sua proprio innata forza un marchio molto forte vuol dire che insomma ha una capacità distintiva molto elevata e quindi ha diritto ad essere tutelato maggiormente cioè ci sono dei marchi che hanno una particolare appunto pensate alla... cioè i marchi forti dopo lo vedremo sono quelli che vengono addirittura confusi con l'oggetto quante volte voi dite mi sono soffiato il naso con un Kleenex quella roba lì non è... cioè il Kleenex non è il nome del fazzoletto di carta il Kleenex è il marchio commerciale della Kleenex che è stata una delle imprese che ha fatto per prima e ha riuscito solo che appunto ha scelto un nome così forte per cui addirittura la gente adesso utilizza il marchio per individuare il prodotto l'altro molto molto noto è Scotch Scotch in realtà è un marchio commerciale è scritto con S maiuscola però tutti dicono dammi un pezzo di Scotch perché così chiudo la scatola non dicono dammi un... che è che dice nastro adesivo onestamente noi italiani siamo abituati a dire Scotch e quello invece è un marchio rinumanza quando addirittura appunto oltre alla forza c'è anche un forte rispetto verso il marchio cioè che ne so nel mondo delle chitarre dire ho comprato una Fender o ho comprato una Gibson fa sì che la gente dica ah cacchio ho comprato una chitarrona quindi c'è un rispetto particolare e quindi a questi marchi viene riconosciuta viene riconosciuta questa... questo merito di essere riusciti a distinguersi anche per la qualità e non solamente per la notorietà ci sono dei marchi di chitarra che sono molto noti però la gente sa che sono chitarra di bassa lega ok? quindi non è detto cioè a volte... oppure gli orologi Swatch è un marchio rinomato? boh! potremmo potremmo discuterne però indubbiamente se siamo nel campo degli orologi dire Rolex o dire Tissot ha sicuramente un impatto di maggior rinumanza o Cartier ok? quindi iniziamo a prendere confidenza un po' con queste sfumature che cosa può essere registrato come marchio? quindi l'articolo 7 ci dice più o meno di cosa si occupa la legge sui marchi come vedrete è molto ridondante questa norma è lunga e ridondante cioè il 12 soprattutto queste norme sono un po' ridondanti se continuano a ripetere un po' gli stessi concetti quindi mantenete attenzione e cercate di seguire quindi possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa tutti i segni in particolare le parole compresi i nomi di persone i disegni le lettere le cifre i suoni la forma del prodotto della confezione di esso le combinazioni le tonalità cromatiche purché siano atti cioè siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese e b ad essere rappresentati nel registro dei marchi in modo tale da consentire alle autorità competenti e dal pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare quindi alla fine ci ha dato la definizione che abbiamo già letto prima poco più poco meno e ci ha detto che sostanzialmente il requisito fondante è quello a la capacità distintiva essere atti a distinguere poi aggiunge un requisito che è più che altro passatemi il termine amministrativo burocratico cioè per permettere di essere registrati in qualche modo adesso i registri sono digitali quindi in effetti i suoni è facile ma una volta quando il registro dei marchi era cartaceo era un albo registrare un suono dovevi riportare la traccia probabilmente dovevi mettere giù lo spartito quindi era un po' difficile adesso è tutto su un registro online quindi non è più di tanto un problema anche le tonalità cromatiche le carichi ovviamente nei casi dei colori pantone quindi hai anche un codice con le percentuali di magenta per individuare chiaramente che quello è un rosso Ferrari oppure un blu di un altro tipo ecco l'articolo perché è ridondante perché noi abbiamo una norma che ci dice cosa può essere registrato che è l'articolo 7 poi c'è una norma molto lunga che è il 12 che invece ragiona il negativo e ci dice cosa non può essere registrato come marchio e dice ci sono tre casi mi sembra non possono costituire oggetto di registrazione come marchio di imprese i segni che alla data del deposito della domanda a siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o come segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati messi in commercio prestati se a causa dell'identità o della somiglianza tra i segni o dell'identità o affinità tra i prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni cioè se io voglio registrare un marchio che è identico o simile a quello che è già stato registrato già si accende una lampadina già si accende come dire all'ufficio marchio si dovrebbe accendere un allarme e dire attenzione stai provando a registrare un marchio che esiste già o è molto simile a uno che esiste già e allora lì si dovrebbe fare una verifica se davvero si crea un rischio di confusione eccolo qua abbiamo detto che la confusione il rischio di confusione è un elemento che torna sempre lo vedremo anche nell'altro requisito il B non posso registrare marchi che alla data dice sempre alla data del deposito della domanda siano identici o simili ad un segno già noto come ditta denominazione o ragione sociale insegna e nome a dominio usato dall'attività economica o altro segno distintivo adottato da altri se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività di impresa fra questa esercitata possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico quindi se io voglio registrare un marchio che assomiglia molto o addirittura identico a una ditta o a un insegna ad esempio o a un nome a dominio quindi ha segni distintivi diversi quindi è un marchio qua il punto A è confusione tra marchio e marchio qua è tra marchio e altri segni distintivi che però comunque un po' per l'associazione per il tipo di attività che magari sono simili possono portare ad un rischio di confusione e il punto C dice ah ora no non sono tre sono quattro sono cinque addirittura allora il punto C dice che sono identici che non possono quindi non possono registrare marchi che siano identici ad un marchio già ad altri registrati in seguito a domanda depositata in data anteriore o avendo effetto a data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di presistenza beh questo è un po' complesso non non vi verrò mai a chiedere questa norma così nel dettaglio e così a memoria era giusto per darvi la panoramica completa il punto D dice che non possono essere registrati marchi che siano identici o simili ad un marchio che è già da altri registrato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avendo effetto in data anteriore quindi stiamo entrando molto nell'amministrativo come vedete cioè vedete com'è diverso l'approccio rispetto al diritto d'autore perché qua nel momento in cui entra in gioco la un'attività di certificazione di rilascio di una patente come vi ho detto da parte di un ufficio che prende in deposito i marchi devono essere trattate anche tutte queste situazioni per mettere nelle condizioni l'ufficio marchi di saper gestire saper dire no ad un soggetto o sì ad un altro anche qua vedete che insiste su se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico quindi più o meno vedete quando dicevo che sono ridondanti cioè sono tutti casi diversi che però alla fine arrivano più o meno alla solita confusione cioè alla solita conclusione dell'evitare il rischio di associazione di confusione tra marchi ecco questo però è interessante perché invece è diverso perché parla della rinomanza eccolo qua non possono essere registrati i marchi che siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato segui la domanda bla 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 affini o non affini quando il marchio quindi qua va a toccare anche servizi che sono identici affini o anche non proprio affini quando il marchio anteriore goda di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo e dalla rinomanza del segno anteriore o richierebbe pregiudizio agli stessi ok quindi vedete che quando vi dicevo il marchio rinomato gode di una tutela maggiore perché addirittura il titolare di un marchio rinomato può anche come dire evitare quindi escludere dalla registrazione del marchio e quindi ripararsi anche da soggetti che vogliono registrare un marchio che non è strettamente affine però se c'è il rischio come dice qua la norma che anche se siamo in una situazione di marchi non affini però ci sia un rischio di diciamo non solo di confusione ma di trarre vantaggio cioè che l'altro soggetto un po' agganciandosi alla notorietà e alla rinomanza di questo marchio riesca in qualche modo a portare la console al suo mulino e ad avvantaggiarsi allora ecco che c'è una tutela c'è una tutela a priori su questo tipo di attività la definizione di arriviamo qua e poi facciamo una pausa la definizione di capacità distintiva ce la fornisce l'articolo 13 questa è una delle norme più importanti insieme alla definizione dell'articolo 7 la definizione di che cos'è un marchio di cosa può essere registrato come marchio ecco che finalmente ci spiega la legge ai sensi del nostro codice della proprietà industriale che cosa si intende per capacità distintiva nel marchio articolo 13 non possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa i segni vedete scusate anche qua parla in negativo ecco perché ogni tanto ci sarebbe da riflettere su queste norme perché alcune norme parlano in positivo puoi depositare puoi fare altre il legislatore ha scelto di scriverle con un tono negativo cioè quindi io ti dico cosa non puoi fare quindi da lì tutto il resto in teoria dovrebbe essere permesso non possono scusate costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa i segni privi di carattere distintivo regola generale ci dice se non c'è carattere distintivo in teoria non potresti registrare il marchio e in particolare distingo in questi casi a quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente e negli usi costanti del commercio chi è che mi fa il collegamento con quello che abbiamo detto prima relativamente ai Kleenex voi direte ma se ormai tutti utilizzano Kleenex come parola di uso comune ormai allora sto marchio non può più essere registrato sì ma lui è stato registrato prima che cadesse in trassa nell'uso comune e quindi loro continuano costantemente a rinnovare la registrazione c'è un caso però in cui è diventato si è volgarizzato si dice cioè è diventato di uso comune quindi il marchio decaduto è una cosa che magari non ci arriverete però la parola brugola la parola brugola è un marchio cioè è il brugola è il nome dell'ingegnere che ha brevettato e ha fatto per la prima volta la chiavetta esagonale per i bulloncini i bulloncini esagonali quella è diventata una parola che adesso trovate sullo zingarelli quella b minuscola però in realtà se cercate è il nome è un nome proprio ok è un esempio di scuola poi ne possiamo fare tanti altri b non sono non possono essere oggetti perché diciamo non possono essere marche a pieno titolo perché mancano di carattere distintivo i segni che sono costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono come i segni che in commercio possono servire a disegnare la specie la qualità la quantità la destinazione il valore la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio di altre caratteristiche quello che vi ho detto prima il marchio che è puramente descrittivo schermi per computer anche la quantità uova a dozzine uova a dozzine non è di per sé non può essere sufficiente per essere distintivo perché tutti più o meno vendono le uova a dozzine o al massimo mezza dozzina in deroga il comma 1 possono costituire quindi sta continuando la slide la norma in deroga il comma 1 possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa i segni che prima della domanda di registrazione a seguito dell'uso che ne sia stato fatto abbiano acquistato carattere destintivo prima della domanda abbiano acquisito quindi quel carattere destintivo poi ho tagliato un comma perché sta norma era anche lei molto lunga ridondante il comma 4 ci dice che il marchio decade se per il fatto dell'attività o della inattività del suo titolare sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio o abbia comunque perduto la sua capacità distintiva l'esempio che dicevo prima se Kleenex se l'azienda avesse come dire anche un po' abbandonato il marchio non l'avesse in attività del suo titolare non l'avesse più utilizzato o addirittura non l'avesse più rinnovato la sua registrazione allora il marchio decade a un certo punto non viene più utilizzato e quindi diventa di uso comune e si volgarizza e la gente inizierà a utilizzare Kleenex con la K minuscola e stop diventerà una parola di uso comune ce ne sono tantissime che sono soggette a questo rischio una delle ultime che aveva poi creato abbastanza clamore era Nutella Nutella in un dizionario non mi ricordo se carzanti devoto olio un dizionario importante di italiano era stato inserito dall'autore come N minuscola Nutella indicando ormai crema di cioccolato di cacao e nocciole cioè indicazione per parola utilizzata dagli italiani per indicare la crema perché in effetti è quello che succede cioè la Nutella ormai è diventata una parola che viene usata anche per la crema di cacao e nocciole che non è prodotta dalla Ferrero cioè anche se non è la Nutella vera tu parli di Nutella lo stesso e guarda sono andato al supermercato non ho trovato la Nutella quella vera ho trovato la Nutella che fa a novi e allora non dovresti chiamarla Nutella in teoria solo che ormai è diventata parola di uso comune e quindi qualche dizionario aveva inserito questa parola come parola di uso comune la Ferrero ovviamente appena notato la cosa si è subito attivata per evitare che succedesse questo cioè che il marchio venisse si intendesse come decaduto e ha subito segnalato all'editore di fare una correzione e chiedere che nella prossima edizione nella successiva edizione del dizionario venisse specificato con la N maiuscola e fra parentesi marchio registrato cioè come dire Ferrero fa piacere che entri in un dizionario perché vuol dire insomma aver avuto un riconoscimento addirittura che gli italiani lo considerano come una parola di uso comune però vuole che venga di volta in volta indicato che è un marchio registrato che è ancora utilizzato e visto che è un marchio probabilmente uno dei marchi che genera nel settore alimentare che genera più business perché è un marchio molto potente vi assicuro che difficilmente molleranno il colpo però ecco ce ne sono tanti che hanno quel rischio cioè vengono utilizzate il nome del prodotto del singolo prodotto commerciale viene utilizzato per individuare il concetto in generale non so il domo pack lo scottex no lo scotch la nutella se volete trovarmene voi ma ce ne sono tanti i kleenex è un classico esempio ce ne sono tanti basta nel senso che su questa cosa qua dei marchi direi che su questa cosa